Le associazioni sportive giovanili hanno la grande responsabilità grazie ai propri tecnici e dirigenti di allenare la crescita tecnica, tattica e fisica degli atleti, ma anche e soprattutto la loro crescita umana. Cambiano i tempi, cambiano le società, di conseguenza i giovani vivono altre esigenze, si confrontano con altri aspetti che gli educatori devono essere pronti a decifrare. In questo senso il workshop di Lanciano presso il polo museale dal tema Giovani in campo e strategie per il successo sportivo e personale traccia una linea, pone i pallacentro per discutere di argomenti di basilare importanza. Promosso da comune di Lanciano, assessorato alla cultura, CONI, Lega Nazionale Direttanti, Federazione Pallannuoto e Panathlon, sono stati i relatori il medico dello sport Francesco Confalonieri, il campione olimpico di Bobbe e preparatore atletico Antonio Tartaglia, l'ex capitano olimpionico di pallavolo Franco Bertoli. Antonio Tartaglia, canton ticino, sbaglio, ricordi? Ah sì, sì, assolutamente sì. Perché fu qualcosa di sorprendente insomma. Eh sì, ci sono rimasto malissimo, quando ho visto la registrazione ho detto no, no. Da Casalbordino invece? No, no, sì, da Casalbordino è un'altra cosa, anche più calore, un altro mondo diciamo. Una bella storia la tua, fu una storia particolare? Sì, sì, assolutamente sì, è una cosa che porterò sempre nel cuore perché sì, l'Abruzzo fa parte, è sempre stata parte della mia vita in giro per il mondo. Poi sì, il mio paese è al centro di tutto perché mi hanno sempre trattato in un certo modo, però sì, è un'esperienza veramente indimenticabile. Sono passati anni e io quella sera c'ero del tuo arrivo di notte a Casalbordino. Fu grande festa, immagino che è uno dei momenti più emozionanti della tua vita. Sì, sì, anche devo dirti una cosa che nel senso sì, non mi aspettavo così, però devo dire già la prima intervista che mi fecero, cosa secondo te sta succedendo al tuo paese? Io ho detto una rivoluzione e il mio compagno invece, beh non so, io subito, non so, mi è venuto dal cuore. Sì, poi loro hanno fatto anche meglio, devo dire, perché non mi aspettavo, era tardissimo quando sono arrivato, è stato ripeto, qualcosa che porterò sempre nel mio cuore, veramente tantissimo. Quanto giova, a proposito di gioventù, ad un campione come te, stare a contatto con la linea verde, ti senti più giovane anche tu? Sicuramente è un'energia che mi trasmettono i ragazzi e ci sto volentierissimo e poi anche il mio impegno con il libro è anche legato al fatto che anch'io sono padre di quattro figli e sono allenatore e quindi mi piace molto stare con i ragazzi, però i ragazzi alla fine quelli che tocco di meno con queste iniziative, perché noi i ragazzi dobbiamo guidarli, dobbiamo essere quegli adulti che hanno dei valori, che creano una cultura sportiva, bella, sana, che aiutano i ragazzi attraverso lo sport, come dice il workshop di stasera, a diventare persone di valore, perché uno su mille può diventare un agonista e farà il giocatore sportivo, ma gli altri 999 possono continuare tutta la vita a divertirsi, a essere sani, a essere in forma e questo lo imparano tanto nel periodo dello sport giovanile che secondo me è fortissimamente educativo e formativo.